Bella a tutti i Fortnite Arts, benvenuti su Leontube, mi raccomando iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per non perdere i nostri video in quanto molto presto andremo a fare una live in cui regaleremo una skin a chi starà guardando la nostra live quindi per sapere quando la faremo cliccate la notifica e la riceverete, potrete così collegarvi nella nostra live intanto in questo video andiamo a fare una missione molto semplice fatta di 4 fasi, distruggi oggetti, niente di più semplice qualsiasi cosa andate a distruggere, andiamo a selezionarla, vedete siamo già 11 di 30 qui andiamo a distruggere il tavolo quindi 12, la panca 13, 14, qualsiasi cosa andate a distruggere vi verrà conteggiata meglio ancora potete farlo usando gli esplosivi oppure potete farlo velocemente magari distruggendo anche dei grandi edifici magari anche con le auto avendo con voi le auto e la chiappa mucche perché così andate in giro e distruggete tutto quanto, qui ormai me ne mancano 3 quindi le andiamo a fare per completare la seconda fase e vedere di quant'è la terza, 60 quindi sono solo altri 30 perché è continuativo quindi abbastanza semplice possiamo portarla anche avanti, qualsiasi cosa andremo a distruggere ci conterà che sarà valido come un oggetto anche le pareti, ovvio le pareti non convengono perché contano uno ma ci vuole di più a distruggerle però se siete all'inizio magari qui riuscite a farlo distruggendo un edificio o una parte di edificio riusciamo a fare questa missione in breve perché distruggeremo automaticamente tutti gli oggetti che sono presenti all'interno di questa casa muriscale e armadi e qualsiasi altra cosa pavimenti e quindi ci conterà tantissimi punti ora andiamo a vedere pensate ancora a guardarci per un attimo qui dobbiamo distruggere tutti i punti di contatto ovviamente quindi ancora ci urrà un pochino, bisogna distruggere questo però soprattutto se siete nella prima fase e fate questo farete presto a farlo, comunque andando in giro con auto sarà ancora più semplice soprattutto con la chiappa mucca venite qua, iniziate a distruggere tutte queste case, passare ovunque e distruggere tutto qui intanto siamo già a 51 questo lo apriamo allora ora andiamo a vedere perché qui è un punto complicato, non era il top vediamo i punti di contatto ok questo pavimento qua che vabbè un soffitto o un pavimento dipende da dove lo beccate quest'altro, no c'è ancora le colonne ok ancora questi muri qua quindi andiamo a distruggerli e siamo a 100 quindi non se ne devono eccolo qua non se ne devono fare parecchi ma così avete visto che in un attimo fate la vostra missione ci è voluto non troppo a distruggerla non è assolutamente divertente però è lo stesso per farla nel minore tempo possibile potete fare anche così se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel mi piace condividetelo con i vostri amici nei vostri social non dimenticate di lasciare un commento e come sempre se vi va vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti ciao a tutti ciao a tutti